In una terra dimenticata tra le mura di un antico castello si nascondono un Pokémon misterioso, un drago leggendario e una forza spaventosa che minaccia di distruggere il mondo. Segui Ash, Pikachu e i loro amici in questa prima grande avventura nella regione di Unima. Il film Pokémon Bianco, Victini e Zekrom.